E da questo momento in poi siamo registrando. Quindi io cedo subito, ringraziandolo ancora e salutando tutti voi, cedo subito la parola al professor Magnoli. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Grazie a Gianni Liviano per avermi invitato nuovamente a Taranto, anche se online, per introdurre questa serie di incontri. Grazie a tutti. Qualcuno di voi si sarà domandato, si sarà chiesto la ragione di un intervento con questo titolo come primo di una serie dedicata all'IVA, all'economia di Taranto. Devo aggiungere a quello che ha detto Gianni Liviano che di fatto questa cosa è nata da un equivoco. Nel senso che Gianni Liviano mi ha invitato a partecipare e mi ha inviato il programma degli incontri sulla enciclica Fratelli Tutti e quindi io ho proposto il tema di questa sera nel solco di questo programma. Tuttavia, dopo aver chiarito l'equivoco, come Gianni ha detto, lui ha deciso di mantenere il tema di cui appunto parliamo stasera, dell'atteggiamento degli operatori economici e della loro qualità etica e devo dire che spero sarete d'accordo con me, vedrete che le connessioni tra i due argomenti, questo dell'etica di questa sera e l'ILVA e Taranto si possono trovare. Questo lo vedremo anche nella conclusione che riguarda la teoria economica dei contratti. Dell'ILVA di fatto tornerò a parlare a voi tra qualche settimana e appunto come avevo fatto già dieci anni fa, come ha ricordato Gianni Liviano. Quindi inizio questa conversazione dicendo che noi tutti invochiamo, abbiamo un auspicio che riguarda una speranza di un cambiamento antropologico, di un uomo diverso da quello egoista e individualista, ma che ovviamente in questa speranza c'è molta utopia, nel senso che forse si trovano delle maggioranze che fanno eccezioni nelle comunità tribali o in quelle in cui i bisogni primari sono spesso insoddisfatti, nel senso che a volte la povertà aiuta a condividere e ad adottare un profilo solidale. Ma tuttavia ho parlato di utopia perché a partire dagli esempi individuali che tutti noi conosciamo, riportati nella Bibbia, tutti noi ricordiamo l'inganno del piatto di lenticchie di Giacobbe ad Esau, ma da allora fino ad arrivare ai comportamenti degli operatori economici, della finanza, dei nostri rappresentanti e di alcuni almeno, di nostri rappresentanti politici dei nostri giorni, penso possiamo essere d'accordo sul fatto che i comportamenti solidali ed altruisti, pur non essendo assenti, ci sembrano spesso minoritari. Per questa ragione un mio collega dell'Università di Zurigo che si chiama Bruno Frai ha deciso di chiamare ironicamente, tra virgolette, anomalie, quei politici che sono interessati al bene comune. Quindi, ripeto, per Frai i politici che sono interessati al bene comune, e quindi non sono egoisti individualisti, sono da considerarsi anomalie. Tuttavia, pur stimando molto Bruno Frai, non intendo stasera qui proporre di legittimare l'egoismo comportamentale, o di rassegnarsi a questo egoismo. Tra noi economisti, come diciamo spesso agli studenti, si sostiene che, anche se a torto, questa posizione sia quella di Adamo Smith, quello con cui facciamo iniziare, diciamo così, la speculazione scientifica dell'economia. Nel senso che nel suo libro La ricchezza delle nazioni parla di una mano invisibile in cui si dice che, stranamente, attraverso questa mano provvidenziale, l'egoismo individuale si tramuta in un benessere comune, in un benessere pubblico. Di fatto non è così, perché Adamo Smith scrisse contemporaneamente a questo volume sulla ricchezza delle nazioni, ne scrisse un altro, sui sentimenti immorali, in cui disprezzava apertamente questa tesi. Anche se questa tesi era basata anche allora sull'osservazione dei comportamenti dei mercanti e dei politici. Quindi, qual è il filo rosso che mi propongo di seguire in questa relazione? Vorrei provare a sciogliere il passaggio dal riconoscimento dell'utopia di cui ho parlato, dell'utopia della solidarietà e dell'altruismo, come sciogliere questo passaggio al rifiuto della legittimazione dell'egoismo e dell'individualismo. In altre parole vorrei chiarire le implicazioni dell'adozione del paradigma individualistico che è stato ipostatizzato, che è alla base del modello della mainstream economics, cioè della teoria che va per la maggiore, che si è contrapposto al modello keynesiano a partire dal metà degli anni settanta almeno fino a quelli che noi ricordiamo come gli anni della grande crisi prima finanziaria e poi economica internazionale che poi è stata seguita, e quella ci riguarda ancora più da vicino, da una crisi di secondo livello che abbiamo imparato a chiamare la crisi dei debiti sovrani. Allora diviene subito evidente che questa riflessione che io faccio con voi dovrà tener conto di un approccio interdisciplinare che va dall'economia alla politica, che va dalla sociologia al diritto. Nella sociologia il pensiero istituzionalista concepisce e richiama una forma di relativismo conoscitivo nelle scienze sociali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il pensiero istituzionalista di fatto nega la validità e la possibilità stessa di giungere a leggi di carattere universale, almeno diciamo così, sino a quando la varianza comportamentale non ci abbandona perché siamo diventati tutti cloni dello stesso modello. Quindi questa sfiducia, questa accusa di relativismo alla scienza sociale significa di fatto relativizzare anche quelle che sembrano delle conclusioni universali che sono attinte dalle scienze sociali. Di fatto a questo pensiero istituzionalista si è contrapposto un nuovo tipo di pensiero un nuovo tipo di pensiero che si chiama appunto pensiero neo-istituzionalista. Questa seconda corrente, al contrario della prima, si colloca in un contesto che potremmo dire contrattualistico, di decisione razionale e individuale. E questa naturalmente, questa ipotesi, è fluita nell'applicazione dell'analisi economica fino a dare una pretesa di genesi alle norme sociali. In particolare, per quanto riguarda lo studio dell'organizzazione, questa concezione si lega alla necessità di contenere i costi di transazione. In breve, per costi di transazione non si intendono i costi della transazione, ma i costi che accompagnano la transazione. E cioè tutta quella congerie di spendita di risorse che si aggiunge al costo dello scambio. Ora, dopo il passaggio tra le due guerre mondiali, da un'ipotesi di capitalismo organizzato che si attribuisce ad Ilferting e che è stato in qualche modo sconfitto, che è stato sostituito da quello che noi oggi chiamiamo l'ordoliberismo tedesco, quello di Heuken e di Roepke, quindi questo capitalismo organizzato della visione socialista di Ilferting viene, come vediamo applicato nella normativa della Unione Europea, in un'invocazione di liberalizzazione di mercati. In questo senso noi argomentiamo e capiamo che l'ordoliberismo tedesco limita la presenza del mercato, che quindi è costretto a cedere parte della sua autorità a quelli che sono gli interessi privati coinvolti. Da qui, però, l'introduzione dell'incertezza e delle asimmetrie informative nello studio dei mercati. Cosa sono le asimmetrie informative? Sono selezioni avverse, azzardi morali che nascono dal fatto che l'informazione c'è ma non è spalmata uniformemente sulla testa di tutti noi, per cui quando andiamo a fare una transazione naturalmente c'è una simmetria tra la conoscenza di chi vende e la conoscenza di chi acquista. Ecco, allora, questo è il contesto in cui io pongo il mio intervento. quindi mi propongo, come ho detto, di analizzare le implicazioni comportamentali e politiche di un riferimento normativo che è quello che alcuni di noi, soprattutto quelli un pochino più avanti nell'età, si ricordano come un riferimento marcusiano di Herbert Marcuse e cioè della denuncia dell'uomo ad una dimensione dell'uomo, cioè che ha soltanto una dimensione economica e questo lo fa orfano dei diritti della persona, orfano dell'equità in un orizzonte temporale limitato. Questo quindi è il punto centrale che richiamo all'interno di un'antropologia che, al contrario, che differentemente da quello dell'uomo ad una dimensione, è un'antropologia multidimensionale, quella stessa che è richiamata dalla nostra Costituzione, che in parte è riflessa sugli articoli del nostro Codice Civile, che naturalmente più o meno tutti noi conosciamo. Ma qual è il riferimento antropologico fondamentale di questa economia neoclassica, di questa che ho chiamato mainstream economics, di questa teoria prevalente che si è contrapposta al modello keynesiano? È appunto quella dell'uomo economicus. Quando nasce questo nuovo concetto? Nasce all'inizio del XIX secolo. Forse qualcuno di voi ha letto nei libri di John Stuart Mill che Mill definiva con questo termine homo economicus l'agire del soggetto economico, contrapposto a quello di un essere umano, di un essere cioè che è inserito in un determinato contesto socio-economico. Il comportamento dell'uomo economicus di Mill di fatto ricalca qualcosa che era stato detto qualche anno prima a proposito di uno universal bogey, un bogey universale. Che cos'è il bogey? Il bogey noi lo conosciamo come è l'orco delle favole. Quindi universal bogey vuol dire l'orco universale. E chi lo descrisse? Lo descrisse Nassau Senior che è il primo cattedratico dell'Università di Oxford. Ovviamente siamo negli stessi anni di Mill. questo orco segue assolutizzandolo il principio dell'utile economico-individuale. Ora Nassau Senior che è l'inventore di questo, diciamo il primo a proporre questo universal bogey distrezzava il comportamento dell'orco e soprattutto si preoccupava perché era consapevole che il principio dell'utile economico-individuale, il principio del guadagno di fatto rappresentava, aveva dentro di sé un pericolo di contagio ed era un contagio che rischiava nel suo pensiero di trasferirsi all'umanità intera. In effetti questa concezione etico-sociale di questo orco che in effetti come aveva purtroppo previsto bene Nassau Senior si è estesa nel tempo soprattutto nelle nostre società occidentali ha finito per caratterizzare realmente in modo crescente le nostre società al punto tale che queste cose che io sto dicendo che sembrano strane che sembrano appunto riprovevoli oggi non sono più nemmeno oggetto di ironia, di sorpresa di scherno, di disprezzo questo perché negli ultimi due secoli il tempo che appunto ci separa da Nassau Senior I valori dell'orco hanno impregnato progressivamente il modo di pensare e di agire di un numero crescente di individui Come possiamo fare allora se ci troviamo davanti a questo contagio che come un virus ha trasformato un modello di Homo economicus in qualcosa di quasi generalizzato ecco se si vuole invertire questa tendenza noi non possiamo secondo me limitarci ad esecrare il comportamento dell'orco di Nassau Senior ha poco senso questo orco invece dovrebbe secondo me essere aiutato a riflettere su quelle che sono le conseguenze sugli esiti antisociali di questo suo comportamento di questa razionalità economica illimitata egoistica e soprattutto arrivare a convincerlo ad abbandonare questo modello antropologico come? mostrandogli delle scelte diverse solidali e altruiste questo atteggiamento che io di cui parlo di fatto risponde ad una esigenza sociale di carità ma se ci pensate essa corrisponde anche ad un tentativo di comporre lo scontro di civiltà che è stato evocato da Huntingdon e che oggi è drammaticamente in atto questo cambiamento diventa anche una quindi una condizione necessaria di sopravvivenza dell'uomo e ci aiuta a capire perché 80 anni fa John Maynard Keynes concludendo la sua teoria generale di cui molti di voi penso hanno sentito parlare o hanno letto ha tanto insistito soprattutto nel suo poscritto filosofico che c'è un legame indissolubile tra una società eticamente giusta e il mantenimento della pace di fatto che cosa accade che il complesso sociale una volta che ha assunto come unico valore di riferimento l'utile individuale ne accetta sovente i criteri di giudizio e in un contesto caratterizzato dalla polarità tra bene e male per la libertà delle scelte umane quelle che noi consideriamo delle opposizioni noi diciamo buono diciamo cattivo diciamo normale diciamo anormale ecco qui invece la corrispondenza viene sostituita con un binomio che è conveniente non conveniente in altre parole non importa più se qualcosa è buono o cattiva quello che importa è se è economicamente conveniente o non conveniente questo criterio di razionalità illimitata diventa quindi un criterio un principio di ordine di natura economica e ogni interferenza da parte di altri valori di altri principi d'ordine si ritiene per questa mainstream economics che questo porti disordine che renda impossibile la razionalità del comportamento e soprattutto il raggiungimento della massimizzazione dei risultati quindi di fatto che cosa siamo arrivati all'accettazione abbastanza generalizzata di quella che si chiama un'etica conseguenziale a scapito di quella deontologica quella conseguenziale l'ho appena descritta nella sostituzione di buono o cattivo con conveniente e inconveniente al suo contrario noi troviamo invece una dimensione etica che ho chiamato deontologica che lascia lo spazio all'incommensurabile ai prezzi infiniti ma ovviamente sia l'incommensurabilità sia i prezzi infiniti sono alieni alla scienza economica la scienza economica non li tollera per questo parla di un valore per esempio economico della vita l'economia non eccetterebbe mai che la vita che il valore di una vita è infinito tuttavia noi sappiamo che anche se ci mettiamo all'interno del contesto dell'economia neoclassica di questa economia che fa proprio il modello dell'homo economicus del conveniente e non conveniente sappiamo bene ormai per gli studi sull'economia del benessere che è la mano invisibile di Smith ricordo quella che si pretendeva che trasformasse l'egoismo individuale in un benessere collettivo è fondamentalmente asimmetrica nel senso che può portare contemporaneamente ad una posizione di massimo economico ma anche di minima equità distributiva per la società in questo contesto l'individuo teme quindi la perdita economica dimentica la fratellanza umana a favore di quella che conosciamo come la ferinità di Hobbes dell'homo homini lupus pertanto l'individuo vede nel suo vicino o un cliente da conquistare o un concorrente da abbattere allora l'accettazione di questo di questa ipotesi comportamentale da parte della mainstream economics diciamo così carica inevitabilmente di conseguenze i risultati di questa analisi gli economisti che si ritrovano in questa corrente associano generalmente al principio dell'individualismo metodologico quello secondo il quale le azioni individuali obbediscono soltanto a motivazioni che potremmo chiamare utilitaristiche ne contegue che la spiegazione dei fenomeni economici consiste nel ricondurli dalle cause individuali di cui essi sono il prodotto pertanto in questa ottica individualistica ogni fenomeno sociale è il risultato della combinazione di azioni credenze o atteggiamenti individuali e la sua importanza nella storia della scienza non deriva dalla sua capacità di imporsi di per sé ma dalla sua relativa efficacia nella spiegazione dei fenomeni sociali qualcuno di voi forse non tutti si domanderanno se naturalmente a questa impostazione di individualismo metodologico si contrappongano altre scuole di pensiero e qui io naturalmente devo andare di corsa perché altrimenti non riesco a svolgere il mio comente ma pensiamo ai neomarxiani agli istituzionalisti ai neoricardiani ai keynesiani in che senso tutte queste scuole di pensiero sono diverse dal neoistituzionalismo dall'economia neoclassica da questa mainstream economics sono diverse perché per coloro che seguono questi pensieri alternativi alcune proprietà dei sistemi complessi non possono essere spiegate in linea di prima sulla base della conoscenza degli attributi delle per fare un esempio tutti voi sapete che all'inizio del secolo scorso si sviluppò il movimento artistico Dada che cosa diceva questo secondo questo movimento si poteva in qualche modo tagliuzzare un'opera d'arte pensate alla gioconda eccetera e dire che la gioconda era un insieme di questi tasselli come se cioè tra la somma di questi tasselli e il valore unico della gioconda non fosse e invece per la presenza di queste proprietà inspiegabili che si chiamano cioè un sociologo americano molto importante che si chiama Torsai Veblen le ha chiamate proprietà emergenti che cosa afferma Veblen che alcuni comportamenti di gruppo non possono essere analizzati mediante una teoria di comportamenti dei singoli come vedremo più tardi questo vuol dire che in un approccio organico l'insieme è maggiore della somma delle parti spero di essere stato chiaro ma io ho scritto nel testo del titolo di questo tema non solo individualismo metodologico dell'uomo economico ho parlato di un individualismo etico ora l'individualismo etico è qualcosa di diverso è una posizione filosofico morale secondo cui ogni valutazione di un sistema economico sociale deve fondarsi sulle conseguenze per gli individui che ne fanno parte e solo contano esempio se noi trovassimo una società in cui nessuno degli individui apprezza la libertà la libertà non dovrebbe essere un valore di questa società questo individualismo etico presume che ognuno di noi sia il miglior giudice di se stesso che sia il miglior giudice dei propri bisogni e non solo ma anche dei modi in cui questi bisogni vanno soddisfatti e che ciò che non è valutato dall'individuo come rilevante non debba essere valutato dalla società nel suo complesso torno un momento a a John Stuart Mill per ricordare che sebbene nasca liberale John Stuart Mill conservava dei dubbi sulla capacità dei singoli di essere i migliori giudici del proprio benessere a questo riguardo portava ad esempio l'istruzione per indicare che ci sono cose il cui valore non è ben misurato dalla domanda di mercato su questo punto si sono poi cimentati altri c'è un articolo splendido sull'American Economic Review di un premio Nobel che si chiama l'Esterturo che fa appunto la differenza tra quelli che sono i trasferimenti in contanti e i trasferimenti in natura ma questo ci porta anche ad una riflessione di un mio collega anziano ormai scomparso dell'Università di Firenze che parecchi anni fa aveva segnalato che la necessità di un atteggiamento umile da parte dell'economista nei confronti degli schemi teorici di impostazione oggettivistica che quindi si contrappone a quel relativismo di cui parlavo all'inizio della mia relazione portava alla conclusione e cito le sue parole non è più possibile strumettere l'elemento della coscienza sociale dell'uomo dallo studio del suo essere sociale allora quanto tempo ho ancora Gianni? quello che vuole professore va bene allora però cercherò di andare in fretta taglierò per forza ma per dire che ci sono evidenze molto chiare che questa credenza di vedere in Adamo Smith che come sapete era tra l'altro un prete che questa credenza nella mano invisibile che metteva d'accordo l'egoismo individuale e il benessere sociale è assolutamente falsa nel senso che ci sono scritti di Adamo Smith che nonostante sia considerato uno dei pensatori dei protopensatori del liberalismo economico ci sono degli scritti di Adamo Smith contro contro le caste quando si rivolgeva alla politica della compagnia inglese delle Indie orientali cioè di una società privata che aveva un dominio monopolistico Smith si dichiarava assolutamente a favore del controllo pubblico Senna in particolare e concludo con questo sul punto ci ha aiutato a ricordare che un'economia di mercato per essere di successo richiede diversi valori che ne includono uno fondamentale la fiducia reciproca la fiducia nell'altro ecco per Smith la giustizia era il pilastro principale su cui doveva edificarsi la diciamo così il comportamento umano e soprattutto da cui dedurre le regole morali del comportamento prima di passare ad un altro argomento che ci porta poi alla fine di questa relazione voglio anche ricordare molti di voi lo sapranno che anche Aristotile nella etica nicomachea rispetto al fine di raggiungere il bene umano evidenziava che certamente esso è desiderabile anche quando riguarda una sola persona ma è più bello e più divino diceva Aristotile se riguarda un popolo e le città e poi c'è una frase che vorrei ricordare a voi a me mi ha colpito tanto di Gian Battista Vico Gian Battista Vico formula la sua prima legge dell'evoluzione delle società affermando che la decadenza di una società si radica quando gli individui non trovano dentro di sé il motivo di legare la loro vita a quella degli altri quindi la responsabile del decadimento non è quando le risorse materiali iniziano a scarteggiare ecco a questo punto penso possiamo dire che questo approccio che ho chiamato del neoistituzionalismo che ho chiamato dell'economia neoplassica di questa mainstream economics che mette a fondamento antropologico del comportamento l'homo economicus e noi lo abbiamo visto impregnare anche i nostri codici civili come se la legge dovesse rispondere unicamente all'economia all'economia più che alla politica prima che alla politica nonostante alla politica si associino dovrebbero associarsi finalità extraeconomiche ora badate non sono tutti gli economisti così il primo premio Nobel per l'economia che si chiamava Jantin Bergen di fatto affermava che l'economia dovrebbe avere un obiettivo nell'equità e solo un vincolo nell'efficienza e cioè questo è un punto difficile a volte da capire nel senso che noi sentiamo addirittura parlare spesso leggiamo di libri qualcuno scritto anche da qualche premio Nobel come Okun i quali parlano di un trade off i quali parlano di uno scambio tra equità ed efficienza come se equità ed efficienza fossero due variabili che hanno la stessa lo stesso ruolo di obiettivo perché badate che se queste due variabili equità ed efficienza sono sullo stesso piano sono obiettivi sono dei beni in sé allora sì che si può parlare di uno scambio più equità più efficienza spero di spiegarmi ma se l'efficienza non è non ha il rango di obiettivo ma quello di vincolo questo non vuol dire che bisogna essere inefficienti vuol dire che bisogna essere efficienti ma dopo aver determinato un principio di equità e questo appartiene alla politica non appartiene all'economia in questo senso quindi parlavo all'inizio dell'economia comprimaria e non di un'economia come ispiratrice della spiegazione dei comportamenti umani come ispiratrice dei codici civili come ispiratrice della norma una società non si legge senza un'ideologia posta a fondamento di ogni etica e l'economia non può sostituirla a meno di trasformarla in una società di uomini clonati di uomini che Marcuse chiamava ad una dimensione di universal bogus come li chiamava Nassau Senior per concludere quindi l'effetto peggiore della dottrina dell'interesse proprio è quello di far pensare che comportamenti diversi da quelli egoistici posti dalla cultura anche quella giuridica dei contratti portano al disastro la fiducia la reciprocità l'altruismo vengono visti come disposizioni della natura umana che in questa ottica disumana non hanno relazione con il processo di civilizzazione in corso nelle nostre società e qui veramente mi avvio alla fine perché qualcuno di voi verrà in testa mentre io parlo ma Romagnoli dovrebbe sapere che non è facile definire la funzione dell'utilità sociale come si fa a definire questa utilità sociale che noi troviamo nella nostra costituzione se gli individui sono diversi se le utilità che essi traggono sono inconfrontabili ecco l'economia del benessere che segue come quella neoclassica approcci utilitaristici postula definizioni e proposizioni basate su aggregazioni di utilità individuali indipendenti che indipendenti vuol dire che non sono interdipendenti vuol dire che sono utilità che non tengono conto né del vicino né di quelle proprietà emergenti che fanno differire l'individualismo da un rapporto organico da quello che a volte chiamiamo olismo una soluzione a questa difficoltà è quella di ricorrere ad una politica di approcci non utilitaristici ce ne sono per tutte le ideologie ce n'è una liberale portata avanti da Nozick che è la teoria del titolo valido nel senso cioè che ognuno deve avere un titolo valido poi naturalmente però per Nozick non è importante che tutti siano in grado di esercitarlo poi ce n'è una socialista di Amarsia Sen che è fatta di functioning e capabilities funzionamenti e capacità ecco questi approcci consentono di fare riferimento ad una politica economica che è diversa da quella della crescita che è basata soltanto sulla misura del PIL dove il PIL misura il successo di una società e questi approcci diversi sono quelli dei bisogni di base dei basic needs sono quelli dello sviluppo umano ecco coniugare l'utilità individuale a quella sociale consente di passare anche nel diritto da una teoria dei contratti basata soltanto su miglioramenti paretiani forti dove paretiano forte vuol dire come diceva Aristotele che anche se un solo individuo sta meglio la situazione migliora il problema è che secondo questa ottica paretiana un massimo si può avere anche se uno soltanto nella società ha tutto e il resto non ha nulla ecco direi che questo potrebbe essere forse una suggestione di paradigma di riferimento per gli incontri che seguiranno e che si riferiranno anche ai contratti così importanti che hanno visto su diversi fronti il nostro governo e Arcelor Mittal come sapete Shakespeare disse me lo ricordo da un dettato d'inglese fatto al liceo e che si intitolava all the world is a stage ecco cioè tutto il mondo è scena tutto il mondo è teatro noi lo potremmo parafrosare dicendo che all the world is a contract e la Costituzione che si rifà ad un pensiero filosofico che noi possiamo ritrovare dall'Aristotile dell'etica nicomachea fino al Keynes delle considerazioni filosofiche della teoria generale di cui ho parlato prima forse attende un suo inveramento ulteriore da parte di chi? Da parte di istituzioni animate da cittadini che Frey chiamava anomali ovvero politici che sono disinteressati e interessati soltanto al bene comune ora in ognuno di voi il giudizio la conclusione di sapere se queste anomalie se questi operatori se questi decisori abitino o meno l'isola di Peter Pan grazie grazie professore grazie veramente grazie grazie di cuore le giungano veramente come se fossimo in un teatro se fossimo in un teatro in questo momento ci sarebbero molte persone ad applaudirle le immagini che questo stia accadendo con grande gratitudine veramente per la chiarezza per la lucidità e per aver saputo coniugare la dimensione dell'umanità e dell'etica della scelta della cultura della solidarietà e i suoi studi economici io ora farei in questa maniera raccoglierei alcune domande tre quattro cinque e poi le chiederei di fornire una risposta finale nel frattempo ne approfitto per dire che per quanti eventualmente interessati domani sera inizia il nostro ciclo di catechesi online e all'eventuno ci incontriamo con un rappresentante della comunità di Sant'Egidio la parola di domani della catechesi di domani è il servizio questa cosa lo dico di quanti fossero interessati ritornando invece sul tema chi ha piacere intervenire lo scriva sulla chat per porre eventualmente le domande chi vuole intervenire io comprendo che un livello così alto di relazione mette in imbarazzo forse gli interlocutori perché hanno paura di dire cose inadeguate però posso dire che insomma questa preoccupazione non ci deve prendere quindi veramente con grande semplicità condividiamo posso fare una domanda posso farla io vai lì Gianni assolutamente dottor Drasso prego e volevo chiedere se oggi nel mondo economico con le sue regole che abbiamo visto ecco le interpretazioni le possibili alternative esiste poi la possibilità che un imprenditore anomalo sopravviva lui e la sua azienda nel senso come ecco implica implica un capovolgimento forse della maniera di di vivere di un'azienda e quindi credo che non sia semplice oggi come oggi l'esistenza di un imprenditore definiamolo anomalo ripetendo le parole del professore grazie lino raccoglierei qualche altra domanda se per il professore va bene cioè proverei a fornire poi una risposta complessiva se posso prego 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 chi voleva intervenire Raffaele Adersano e Maria Grazia Meglione sono solo a poste io cederei la parola a Maria Grazia per in quanto donna e poi Raffaele Prego grazie veramente grazie professore grazie Gianni perché organizza questi incontri molto interessanti proprio oggi dicevo nella realtà della mia piccola comunità locale di cui sono stata anche amministratore è importantissimo che alla base per affrontare determinati problemi ci sia lo studio e l'approfondimento soprattutto sui temi concreti e più scottanti sui quali siamo chiamati a dire la nostra e ad operare mi hanno veramente molto colpita le riflessioni del del professore da economista e mi hanno richiamato alla mente anche quella profonda riflessione di un altro celebre economista il professor Zamagni quando afferma che un mercato completamente libero finalizzato a se stesso alla fine può portare al suo stesso suicidio avevo i brividi addosso mentre il professore parlava perché alle mie spalle ho l'etica nicomachea che siamo chiamati a tradurre in pratica e mi ha profondamente colpita proprio il paradigma del bene comune perché nella società in cui viviamo e lo stiamo sperimentando l'homo economicus alla fine può arrivare a soffocare ad abbattere a distruggere non soltanto l'homo eticus ma oserei dire proprio l'homo antropos cioè l'uomo considerato nella sua umanità a cominciare dalla salute fisica e a finire tutte quelle altre caratteristiche spirituali che ci rendono uomini e ci distinguono nel genere animale ecco perché il paradigma del bene comune che il professor ha spiegato così bene che dovrebbe guidare l'economia è fondamentale nella nostra società nell'economia in generale a governo a livello nazionale lo stiamo vedendo anche nella stessa organizzazione del piano vaccini una cosa bella che è stata introdotta il fatto che si debba pensare a tutti i paesi soprattutto a quelli più deboli che magari non avrebbero da soli la possibilità di entrare in questo piano vaccini io vorrei porre però una domanda molto molto specifica per il travaglio che noi stiamo vivendo a Taranto da un lato diretto alla salute dall'altro diretto al lavoro e tra le varie soluzioni ora siamo al massimo dell'inquinamento si stanno studiando soluzioni perché si abbatta l'inquinamento ma secondo me non possiamo essere soddisfatti nemmeno da questo ora ritornando proprio alla definizione di bene comune che è bene di tutti e di ciascuno fino a che punto lasciando prevalere l'economia possiamo accontentarci di una soluzione migliore che però non è la soluzione ideale cioè una soluzione assolutamente non inquinante e fino a che punto in questi termini può reggere la stessa economia e realisticamente parlando quindi in termini di mercato si possono coniugare i due diritti fondamentali diritto alla salute e diritto al lavoro che vanno riconosciuti però in senso pieno questo è possibile sappiamo benissimo qual è la scelta dal punto di vista etico ma è possibile anche dal punto di vista economico e che quindi il bene comune da paradigma etico sociale diventi anche paradigma economico per salvarci poi tutti quanti grazie grazie raffaele versano prego poi francesco massonuzzi eh sì volevo chiedere qualcosa su su equità e l'efficienza di cui ci ha parlato il professore cioè che bisogna essere efficienti dopo aver stabilito l'equità e ciò attiene alla politica no? ecco la domanda è perché perché la politica possiamo dire che non è più il luogo della decisione perché per decidere guarda all'economia allora il luogo della decisione si è spostato dalla politica all'economia quindi come ecco questa è un po' poi quando si è anche una domanda nella finanza è anche peggio diciamo eh sì e grazie grazie raffaele franco mastronuzzi franco sei sei muto devi attivare l'audio franco sulla sinistra del sì sì ho fatto già mi sentite sì mi sentite sì allora professore lei ha citato Vico a proposito del decadimento di una collettività nei suoi corsi e ricorsi e questo che dipende dalla mancanza di solidarietà nella ricerca del benessere economico secondo lei questa fase storica come la stiamo vivendo noi è una fase di cadimento o o diversa da quella che secondo me stiamo attraversando grazie franco c'era rosa avaricenti poi ti ha chiesto la parola chiedo scusa pronto allora rosa la licenti ludovico vito e cara sanicola e poi chiudiamo quindi rosa la licenti ludovico vito buonasera grazie al professore per la relazione senta io mi chiedevo utilizzando le categorie che lei ci ha illustrato la categoria principale è quella della convenienza o non convenienza economica quella in base alla quale ragiona diciamo questo pensiero dell'economia neoclassica neoistituzionalista ora anche utilizzando questo parametro della convenienza economica io mi chiedo se sia economicamente conveniente una uno stabilimento che comunque produce tutta una serie di diciamo effetti negativi sotto il profilo ambientale anche quello dovrebbe avere una valutazione economica una diciamo valutazione di inefficienza economica o diseconomicità insomma e soprattutto il tema della salute della salute delle persone anche questo credo che vada valutato dal punto di vista economico e cioè la la riflessione che io cerco di fare e che spero qualcuno abbia la possibilità di approfondire con degli strumenti naturalmente più tecnici rispetto a quelli che potrei utilizzare io sono una giurista non sono un economista ecco mi chiedo se qualcuno a livello diciamo anche politico ha fatto questo tipo di valutazione cioè la diseconomicità di un impianto di di questo tipo e poi mi chiedo se le ragioni in questo caso non siano anche di diverso tipo cioè non c'è nemmeno una valutazione economica che viene fatta bensì una valutazione di opportunità strategica nazionale cioè anche se è diseconomico ci buttiamo un sacco di risorse a questo punto anche di carattere pubblico questo tipo di diciamo di stabilimento però comunque riusciamo a mantenere un certo livello di produzione interna nazionale ecco mi chiedevo appunto se c'era la possibilità di riflettere anche su questi aspetti grazie grazie Rosa l'onorevole Vico ma Luigi Nuzzi si era prenotato o ho capito ho visto male no e ho intenzione in effetti di fare un intervento grazie Gianni allora onorevole Vico cara Sanicola Luigi Nuzzi e poi è l'ultimo Luigi Nuzzi chiude prego Ludovico Ludovico se stai parlando non ti sentiamo perché sei nuto devi attivare l'audio in attesa Ludovico attivi l'audio c'è la parola a Carla Sanicola nel frattempo Ludovico attiva l'audio salve professore buonasera grazie per questo intervento estremamente complesso e profondo devo dire veramente ci sarebbe bisogno di un po' di tempo per metabolizzare tutti i contenuti che lei ha esposto per cui le domando scusa se anche diciamo il mio intervento sarà molto riduttivo rispetto a quante cose vorrei chiederle però ecco la prima domanda che io le pongo alla luce anche della sua esposizione è se come molti soprattutto diciamo forse più noi sociologi che e anche molti economisti come appunto la Senna stanno stanno mettendo in evidenza quanto lei non ha mai usato nel suo intervento la parola capitalismo però quanto questo paradigma dell'home economicus si stia diciamo così mettendo in atto una fase di autodistruzione perché affermo questo perché paradossalmente con il crack e lo shock del 2008 che ha diciamo manifestato forse la massima espressione del successo dell'home economicus attraverso la finanziarizzazione lo shock del 2008 ha dimostrato che il modello incomincia e cioè ha dei profondi limiti e che non è un modello che può appunto affermare una crescita infinitesimale così come diciamo si pensava sicuramente la globalizzazione è stato il fenomeno che più di tutti ha diciamo così manifestato il successo di questo modello di questo modello diciamo di questo uomo che pensa solo all'utilità e che parte dall'utilità soggettiva e qui le pongo l'ultima riflessione mi aiuti un po' anche a me a comprendere questa cosa quanto oggi nella società dell'individualismo compiuto questo eccessivo individualismo soggettivo troppo spesso determina l'affermazione di questo paradigma dell'uomo economico anche se non ce ne rendiamo conto faccio un esempio banale quando diciamo a fronte di alcune scelte ognuno di noi afferma la sua posizione partendo dal suo status e dimenticando invece la condizione di vita degli altri componenti sociali degli altri elementi che compongono la società quanto di fatto anche a fronte di affermazioni eticamente molto alte questo atteggiamento non perpetua invece esattamente il paradigma che paradossalmente si vuole disconoscere la semplifico ancora di più io ritengo che oggi per esempio quello che sta succedendo nella società italiana la spaccatura la semplifico professore mi perdoni è solamente un esempio ma la spaccatura drammatica tra i lavoratori dipendenti in particolare pubblici e i lavoratori invece che sono del comparto privato a fronte del dramma del covid sta mettendo in evidenza delle forti diseguaglianze no? delle forti diseguaglianze che si manifestano poi nella dimensione pratica della vita di tutti i giorni eppure diciamo così ognuno di noi analizza l'esigenza e delle risposte che si devono dare a partire dal proprio status non mettendosi quasi mai nella condizione di comprendere quella dell'altro e quindi quanto diventa ancora più determinante la sua promenuazione c'è bisogno oggi anche per fingere diciamo così chi in maniera quasi inconsapevole non perpetua l'affermazione di questo paradigma anche quando pensa di combatterlo ecco grazie grazie Carla lo dico ho molto apprezzato cosa ha detto il professore e penso che la dimensione che egli ci ha offerto questa sera non fosse esclusivamente circoscritta al nostro paese ma neanche alla sola Europa c'è un problema dell'occidente c'è un problema di una parte larga e grande del pianeta perché pongo questo perché ciò che a me sembra che sia in crisi in questo ventunesimo secolo è la narrazione dello scorso secolo cioè nello scorso secolo le narrazioni che ci sono state offerte almeno tre il fascismo il nazismo il comunismo e il liberalismo l'unico che ha retto la democrazia liberale quella che ci tutela ancora bene quest'ultima è quella in crisi la ricerca del bene comune e la crisi dell'occidente nell'avere individuato esclusivamente nell'individuo l'anima della soluzione delle questioni il bene comune non è una adesione il bene comune è una come dire è una introiezione e qui c'è la debolezza della democrazia liberale che se che se fu corretta alla fine del novecento con il famoso patto social democratico che in un qualche modo ci ha consentito per noi europei soprattutto per l'occidente risultati straordinari dopo la crisi del 2008 e questa del covid i problemi che sono davanti a noi sono un po' più complicati anzi molto complicati non ultimo l'intervento non l'ultimo intervento pensate alcuni scoprono i lavori essenziali col covid i lavori essenziali nella stagione del covid erano gli stessi lavori essenziali che erano prima del covid il salario dei lavori essenziali è 800 euro 600 euro 500 euro il lavoro nero il tre ore tre ore di part time stiamo parlando di questo ma stiamo parlando di questo nei servizi fondamentali cioè voglio dire il bene comune come dire non è un obiettivo o è parte integrante anche di ciò che vogliamo disegnare o costruire per voler disegnare ebbene temo che molti analisti non è solo la mia opinione che sarebbe molto modesta provino a dire che la democrazia liberale costruita solo intorno all'individuo il cui successo è stato straordinario per il bene comune la democrazia liberale ha avuto questo valore l'individuo per il bene comune la narrazione dell'avanzamento dell'individuo per il bene comune bene sia come dire uno dei problemi che vanno affrontati prima di essere travolti dal sovranismo perché questo è poi il rifugio come dire alla democrazia liberale che io difendo come ultimo baluardo ma a corte non farlo rimanere come l'ultimo per cui puoi collare dico sovranismo perché il figlio minore del sovranismo è stato il populismo fino ad ora grazie grazie a te Luigi Nuzzi ed è l'ultima domanda forse poi ha scritto qualcosa a Vito Mitrotti se ho visto bene sulla ciò allora innanzitutto grazie al professore però chiedevo nel frattempo che fine ha fatto l'economia circolare perché si sta facendo è un po' una provocazione la mia mi permette da ignorante però siccome sto seguendo per quello che posso determinate cose riguardanti appunto l'economia circolare stasera non ne ho non ho sentito assolutamente parlarne come mai ha una sua cittadinanza oppure no grazie bene signor Nuzzi grazie io cederei nuovamente la parola al professor Romagnoli ringraziando evidentemente tutti quelli che sono internuti prego professore io in questo momento non vi vedo ma non so se voi vedete me noi la sentiamo noi la sentiamo e la vediamo anche adesso vediamo e ascoltiamo non è un problema ecco perché io io vi ho in qualche modo perso vediamo se riesco a a ritrovarvi nel senso che mi ha parso un indicatore di zoo ecco adesso vi ho ritrovato dunque ringrazio io voi nel senso che anche se Gianni ha posto un limite io non mi aspettavo una ricchezza di commenti come quella che voi mi avete dato stasera e che al di là di quello che potrò dire del mio pensiero di risposta mi arricchisce molto allora cerco di andare nell'ordine nel senso che ho preso qualche appunto però poi alla fine il foglio non mi è bastato e quindi ho messo l'ultimo intervento di Nuzzi per secondo ma vediamo se riesco a non dimenticarne nessuno allora nel mondo economico dice Grasso tenendo conto delle sue regole c'è spazio per imprenditori anomali allora devo iniziare a rispondere dicendo che c'è proprio un filone della economia aziendale importante che fa riferimento ad una economia della responsabilità sociale non potrò parlarne in maniera diffusa ma ecco se anche voi andate su internet e andate a trovare che cosa vuol dire aver inserito la responsabilità sociale d'impresa all'interno della teoria diciamo che risponde di questa parziale accettazione di un'anomalia da parte di imprese che altrimenti potrebbero sembrare completamente e univocamente vocate al profitto per dire qualcosa di più su questa domanda importantissima il riferimento mentale che io sono i libri di Jeffrey Sachs Jeffrey come Goffredo Sachs che si scrive S.A. C.H.S. un grande economista americano il quale il quale ci interroga e si interroga con riferimento a due punti fondamentali che sono diventati abbastanza comuni nel lessico ormai della politica e dell'economia e che sono di fatto il clima e l'ambiente ma se a questo ho detto due dovevo dire tre nel senso che dovevo parlare anche di diritti umani cosa dice Sachs in breve e devo veramente sintetizzarlo in maniera estrema Sachs dice voi in Europa siete più fortunati di noi nel senso che date sia nelle vostre università sia negli vostri studi nelle vostre ricerche scientifiche un'unione tra economia e storia che negli Stati Uniti manca quindi il suo ragionamento di fatto si si snoda cercando di porre questi temi direi tutti quelli del dibattito di questa sera in un alveo storico e si domanda Sachs ma quale dovrebbe essere lo scopo dell'economia ma è chiaro deve essere il benessere umano e l'ha detto Aristotele l'abbiamo ripetuto con Vico l'abbiamo rivisto anche in questo maltrattato Adamo Smith che si è fatto prodromo di una pensiero liberale di fatto dice Sachs l'economia è in crisi perché non trova risposte ai cicli economici ma perde soprattutto di vista le sfide del clima e dell'ambiente per questo ho detto l'importanza di questi tre elementi nella risposta che noi dobbiamo dare ecco allora e devo aggiungere forse un'altra cosa che poi riprenderò più tardi ma che qualcuno di voi ha citato il scopo dell'economia dovrebbe essere il benessere umano senza altro dare una risposta alle sfide dell'ambiente del clima e della salute adesso non ricordo bene ma c'è un intervento che riguardava soprattutto questo allora capire l'economia di mercato il ruolo dello Stato l'intervento dello Stato è fondamentale è importantissimo anche se l'economia spesso è reticente ed è reticente soprattutto per il raggiungimento di obiettivi umani e allora la domanda che ci dobbiamo porre è ma come si deve trasformare questa economia dove andiamo dove vogliamo andare perché solo se ci ponessimo questa domanda banale a cui rispondere è difficile ma la domanda è banale questo renderebbe l'economia migliore con l'aiuto delle tecniche e soprattutto per quello che è l'obiettivo statutario dell'economia l'ottima allocazione delle risorse ma finalizzato ad obiettivi globali quindi questo è il punto che vorrei con cui vorrei rispondere alla domanda allora il problema non è l'efficienza certo che bisogna essere efficienti per paradosso se qualcuno riceve una domanda di elemosina l'elemosina va fatta in maniera efficiente ma questo è il vincolo del senso di equità che ci fa fare l'elemosina quello che ci spinge non è l'efficienza quello che ci spinge è il senso dell'equità ovviamente l'obiettivo dell'equità e anche questo è stato nominato e che dovrebbe essere il compito della politica va fatto in maniera efficienza perché dovrebbe essere il ruolo della politica perché l'equità ha a che fare con la distribuzione del reddito e della ricchezza e questo tema è il fulcro della politica e della politica economica penso che su questo quindi è questa l'idea di base questo deve essere il crocevia della nostra disciplina ma all'interno di obiettivi globale perché l'armonia globale deve essere l'obiettivo che fa da perimetro a tutta questa nostra ricerca spero di aver risposto a Grasso a Maria Grazia Melloni il mio amico Stefano Zamagni dice fa una proposta Melloni la proposta che fa Stefano Zamagni è quello della economia civile c'è una sola differenza tra lui e quello che ho richiamato prima di Giambattista Vico che la proposta di Giambattista Vico non è transattiva se posso fermarmi qui mentre l'economia civile che propone Stefano Zamagni è transattiva e allora non so se è sempre Melloni che dice che pone il problema dei paesi poveri e dei vaccini e del diritto della alla salute e al lavoro e si domanda c'è una soluzione ideale anche in una economia di mercato si c'è perché il mercato è un'istituzione come è un'istituzione lo Stato quello che noi dobbiamo decidere è se ha ragione Jean-Jacques Rousseau o ha ragione Gorg Ferry Ege in che senso nel senso che entrambi questi grandi pensatori hanno parlato hanno scritto sulle istituzioni e però mentre per il primo l'istituzione Stato non è un bene in sé non è un obiettivo ma è uno strumento dice Jean-Jacques Rousseau lo Stato è lo strumento attraverso il quale diciamo così l'elemento principale il padrone che è la società civile perché questo è il punto di riferimento di Rousseau che deve utilizzare l'istituzione Stato per raggiungere i suoi obiettivi badate che è completamente contrapposta è la posizione di Georg Hegel perché perché lui in qualche modo si lega al pensiero di Hobbes e risponde ma che diavolo vuol dire Rousseau quando dice che bisogna che bisogna guardare alla società civile come primus non come posterius come primus ma che senso ha questa logica russoviana dice Hegel se la società civile nemmeno esisterebbe se non ci fosse lo Stato a garantirla ma che non lo sappiamo che c'è una ferinità obesiana che mette tutti contro tutti ma senza uno Stato che regola protegge e garantisce che questo non avvenga dove sarebbe la società civile quindi l'istituzione per Hegel al contrario di Rousseau è un obiettivo è un bene in sé è il primus non è il posterius se mi sono spiegato bene per Rousseau il primus è la società civile il posterius è lo Stato per Hegel è completamente il contrario il primus è lo Stato come istituzione e il posterius è la società civile allora ognuno di noi dentro la propria testa deve prendere una decisione su questo questo è un punto importante ma allora diceva Federico Caffè che è stato il mio maestro Federico Caffè è stato un grande economista che è scomparso nel 1987 di cui non si è mai ritrovato il corpo diceva vedete ragazzi quando entrate in classe e cominciate a parlare c'è un solo modo di essere onesti intellettualmente nei confronti degli studenti e dire io la penso così questo naturalmente non vincola voi a pensarla allo stesso modo perché siamo all'università e quello che importa è che agli esami voi riusciate a difendere in maniera dialettica quello che voi sostenete non dovete venire a ripetermi le mie idee perché questo è il metodo che vi devo dare chiudo la parentesi per dire che io sono russoviano non sono egeliano quindi per me chi viene prima è la società civile e le istituzioni lo Stato ma così anche il mercato sono degli strumenti che servono a raggiungere gli obiettivi della società civile ma perché è così perché è così importante la distinzione strumento-obiettivo perché badate bene se le istituzioni sono degli obiettivi se sono dei beni in sé noi dobbiamo farli espandere quanto più passiamo e quindi dobbiamo arrivare nel caso dello Stato allo statalismo esasperato dobbiamo arrivare nel caso del mercato al mercatismo per cui tutto a un prezzo e qualsiasi cosa si vende compresa la dignità umana per questo è così importante porci questa domanda e risolverla dal punto di vista istituzionale quindi la mia risposta a Melloni è che sì nella istituzione mercato c'è il modo di fare c'è una soluzione ideale per esempio pensate agli standards c'è una cosa si può commercializzare se la sua produzione rispetta il diritto dei lavoratori il diritto alla salute e tutti i diritti che vi vengono in mente qualcuno dirà ma come facciamo a competere con la Cina ma non tanto con la Cina o con i BRICS che sono tutti i paesi emergenti che passano per il Sudafrica l'India il Brasile la Federazione russa come facciamo noi a sostenere un mercato che è globalizzato e come facciamo a concorrere su questo mercato se noi rispettiamo gli standards e poi ci stanno gli altri che non li rispettano è chiaro che potranno dirci in televisione quanto gli pare che i giocattoli cinesi non vanno dati ai bambini perché sono pericolosi ma quando una persona che centellina il suo portafoglio e le sue risorse si rende conto che quel giocattolo con la sua stessa funzione costa un quarto di quello che costa quello dove c'è scritto CE comunità europea potranno sequestrare tutte le navi che vogliono ma questo mercato andrà avanti e se qualcuno pensa che sia colpa della Cina sbaglia perché dietro la Cina ci stanno decine di paesi poveri che cercano di diventare emergenti come la Cina ha fatto in questi ultimi quarant'anni quindi non è un problema che si può dire si può risolvere facilmente colpevolizzando qualcuno perché noi facciamo parte di un mondo privilegiato noi che siamo 500-400 milioni insieme agli Stati Uniti insieme al Giappone facciamo parte di quel miliardo su sette e mezzo che in media non ha problemi e ci siamo globalizzati con altri 6 miliardi di persone che hanno problemi e come ci comportiamo noi ricchi nei confronti dei poveri aiutandoli qualcuno potrebbe pensare certo nelle istituzioni internazionali pensate all'organizzazione mondiale del commercio al WTO che voi conoscete tutti beh nel WTO sicuramente ci sarà una normativa che privilegia i poveri gli emergenti rispetto ai paesi avanzati ricchi e scoprite se andate a vedere questi statuti che accade proprio il contrario nel senso che ai ricchi si dà la possibilità di non rispettare alcune regole ai poveri che sono indebitati gli si impone qualsiasi cosa dal punto di vista di politica della politica economica eccetera perché scattabili in maniera totale e tanto per cominciare come avrete ormai sentito perché negli ultimi mesi questa cosa è venuta fuori dall'accordo di Chioto della fine degli anni novanta sullo smaltimento dei rifiuti fatto su base transattiva fatto su una base di mainstream economics fatto su una base di economia neoclassica fatto sulla base della razionalità illimitata fatta su tutte queste ipotesi che io ho richiamato dentro nella mia relazione chi è che ha smaltito i rifiuti i paesi ricchi e che dove li hanno messi questi rifiuti hanno riempito completamente i paesi poveri chi l'ha permesso questo le istituzioni internazionali ma allora le istituzioni internazionali a favore di chi scrivono la normativa e applicano e la applicano a favore dei poveri no a favore degli emergenti forse soprattutto a favore nostro mi sono dilungato ma la domanda era particolarmente impegnativa dottore avversano lei ha ascoltato molto bene la mia relazione nel senso che l'ha colpita il fatto che equità ed efficienza non sono due obiettivi ma uno un obiettivo l'equità che va realizzata va attuata con efficienza e dice quindi alla fine ho capito forse sapevo già che non è la politica a guidare l'economia ma piuttosto il contrario allora questo insegniamo noi nei corsi di politica economica entriamo in classe e per una decina di lezioni insegniamo quella che chiamiamo politica economica tradizionale qual è? è quell'approccio olistico in cui si presume che il politico persegua il benessere comune nel resto delle 40 lezioni che seguono gli diciamo però guardate questa ipotesi che ci veniva insegnata finché non è morto caffè per dire quindi fino agli anni 70 80 guardate che questa ipotesi non regge più perché ci siamo accorti che non è così e quindi vi insegniamo la nuova politica economica che non è più quella tradizionale perché qui il politico non serve più una società organizzata unica che è un corpo sociale ma questa società si è frammentata come i cristalli di una di una brocca che cade per terra e per cui non si può parlare addirittura dicono questi economisti di società ma dov'è la società? Chi l'ha vista la società? Io vedo degli individui ed è al benessere di questi individui che devo guardare quindi il benessere della società dicono i rappresentanti avete capito che sto parlando di quelli dell'homo economicus dell'orco di Nassau senior dell'economia neoclassica di tutta questa parte che ho chiamato mainstream economics e il premio Nobel dell'Università della Virginia dice io la società questo lo ha detto nella lezione Nobel io la società non l'ho mai vista io ho visto degli individui per me perseguire il benessere comune vuol dire perseguire il benessere degli individui perché è la somma dei benesseri degli individui che fa il benessere comune ma questo ovviamente consente che tutto può essere posseduto da uno e dagli altri niente pensateci un momento se è la somma che conta non dipende dalla distribuzione cioè la distribuzione diventa indifferente io massimizzo un risultato ma non mi pongo il problema di chi ne trae profitto e chi ne trae danno mi sono spiegato dottore Aversano se qualcuno va a cercare il nome Niskanen dove c'è una cappa in mezzo Niskanen e vede la teoria della delega comprende come la nuova quella che ho chiamato nuova politica economica parte dal fatto che non c'è assolutamente l'ipotesi che il politico persegua il benessere sociale anzi lo stesso premio Nobel che ho citato prima Buchanan dell'Università della Virginia posso parlare ancora cinque minuti Gianni? assolutamente sì allora pensate a questa cosa paradossale questo premio Nobel ci mostra un paradosso e lo fa con franchezza e ci dimostra che l'interesse del politico non è quello di avvicinarsi ai bisogni della gente ci dimostra che l'interesse del politico è quello di allontanarsi quanto può dagli interessi della gente guardando a che cosa? guardando alla sua rendita che è una rendita non necessariamente economica finanziaria ma che è una rendita politica che è quello di mantenere la sedia dove siede in un organo istituzionale parlamentare regionale quello che volete e come si dimostra questo paradosso? beh dice siamo in un mondo caratterizzato dall'incertezza e dalla simmetria informativa in questo mondo un politico può guardare i suoi elettori i suoi il suo il suo collegio e dire dunque adesso cosa faccio? qualcosa nell'interesse di chi ha bisogno o di chi non ha bisogno? allora se faccio l'interesse di chi ha bisogno e mi vado a a prendere diciamo così senza tetto tanto per cominciare quelli che veramente non hanno niente qualche qualche stravagante c'ha anche un conto corrente in banca ma fondamentalmente questa gente che muore per strada dovrebbe essere la prima ad essere la destinataria della redistribuzione che cosa accade però come sapete che la spesa pubblica non non dà beneficio alle classi meno abbienti ma dà beneficio alle classi medie perciò se tu sei bene se tu non sei abbiente se tu sei un diciamo così uso una parola brutta un rifiuto della società questi aiuti non ti arriveranno quasi mai perché dice Buchanan perché se il politico aiuta questi disgraziati che la che la fortuna ha ridotto in questa maniera uno questi tutto potranno fare meno che andarsi a informare di chi li ha beneficiati due in una società in cui la gente spesso non vota questi saranno i primi a non votare perché non hanno alcun interesse a farlo ma chi è che voterà voteranno quelli quella classe media o in qualche modo più più ricca i quali avendo visto tutte queste risorse andare verso gli emarginati hanno visto che delle tasse che loro hanno pagato a loro è rimasto praticamente poco niente e quindi questo politico che ha avuto un comportamento equo perché ha cercato di riconoscere il bisogno ha avuto un comportamento efficiente badate bene perché massimo è il beneficio per chi non ha è chiaro che se uno ha cento paio di scarpe averne una in più non gli cambia niente mentre è chiaro che se uno è senza scarpe un paio di scarpe gli cambia la vita questa è l'utilità marginale decrescente di Riccardo allora questo politico che ha fatto ha seguito la politica tradizionale è stato eco ed efficiente e che risultato ottiene dice il premio Nobel quello di perdere il suo posto perché non viene rieletto perché quelli a cui ha dato un beneficio non vanno a votare o non lo sanno lo sanno molto bene quelli che pensavano in un sistema universale in cui si dà un pezzettino a tutti sia che sia ricca sia che sia poveri per cui il ticket vale per tutti lo sconto sulle spese della scuola vale per tutti e così via questi saranno quelli che improvvisamente si vedono non arrivare queste piccole cose ma che pure prima avevano per colpa di questo qui che ha voluto aiutare i bisognosi bisogna farlo fuori mi sono spiegato ho fatto questa 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 digressione scusatemi ma è una cosa che gli studenti apprezzano tanto sta parlando il professore inconsapevolmente sta parlando della vita di alcuni di noi grazie Gianni poi ho Francesco di cui però non vedo il cognome che però vedo rappresentato Mastruzzi diciamo Mastruzzi ecco lei dice ma il destino sociale nei corsi ricorsi storici è di decadenza e dunque io ho letto quel passo di Vico Mastruzzi perché è proprio questo che dice Gian Battista Vico una società comincia la sua decadenza non quando sperimenta una scarsità di risorse ma quando smette di riconoscere l'altro cioè manca quella fiducia quella reciprocità quella solidarietà su cui ho insistito nella mia relazione quindi per fare media la risposta a lei sarà brevissima sì decade almeno questa è l'opinione di un grande che è Gian Battista Vico a cui mi appoggio umilmente Rosa Valicetti con le categorie convenienze e inconvenienze cosa si può dire di uno stabilimento che inquina l'ambiente e minaccia la salute anche questo aspetto dice lei ha una dimensione economica tutto si ridurrebbe altrimenti ad una strategia nazionale per produrre un po' di acciaio ho capito bene la sua domanda Rosa lei è l'unica a cui non risponderò perché se le rispondessi dovrei senza dare un'argomentazione dare le conclusioni dell'intervento che Gianni Liviano mi ha chiesto fra qualche settimana che si può tradurre in ilva sì o ilva no perciò come potrà immaginare è una domanda semplice che ha bisogno di una risposta non semplice se lei mi perdona io mi astengo da risponderle o poi c'è non so se conti sono cosa dunque Ludovico di Nunzi no c'è un problema in occidente è in crisi la narrazione del tecolo scorso fascismo nazismo socialismo il liberalismo di oggi che però è in crisi è vero lei afferma il bene comune non è un'adesione ma un'introiezione per questo di Nunzi ho parlato di un desiderio in parte utopico che è quello di un'antropologia diversa qualcuno potrà dire ma lei stesso ha detto all'inizio della sua relazione che i comportamenti solidari altruisti non individualisti anche se non assenti sono minoritari questo non è un motivo per disperare perché nel nostro piccolo nel nostro microcosmo che cosa ci deve guidare la mattina quando ci alziamo di avere una responsabilità comportamentale che ci fa fare il massimo di quello che è nel novero delle nostre possibilità questo dobbiamo guardare è chiaro che ci sono tante cose che vorremmo fare ma che ci passano sopra la testa ma pensate a un mondo in cui ognuno fa il suo dovere ogni docente insegna al meglio che può ogni studente studia al meglio che può e tutte e due fanno lo stesso fanno il loro mestiere per cui agli esami lo studente cerca di far capire al docente che sa tutto e il docente deve andare a capire quello che non sa perché questo è il nostro mestiere se ognuno veramente potesse dire la sera ho fatto quello che dovevo fare io penso che questo darebbe alla società una forza veramente incredibile qualcuno di voi potrebbe dire è una fede sì io credo io credo questo spero in questo e credo che questa sia l'unica via che ci possa far trasformare quell'utopia in una realtà pensate al problema politico sanitario economico sociale del nostro paese a cui arriverò adesso c'è da mettersi le mani nei capelli qualcuno potrebbe dire eppure proprio in questi momenti che si verifica la responsabilità individuale che è qualcuno prima ha detto l'individuo per la comunità non so se è lo stesso di Nunci che l'ha detto il liberalismo la democrazia liberale è in crisi è parecchi dei nostri avversari a livello mondiale lo dicono il presidente della federazione russa lo dice spesso non possiamo da una parte non guardare a come la Cina ha gestito la pandemia e qualcuno ha commentato certo ma loro potevano utilizzare degli strumenti che un sistema democratico non può usare però non non basta questo perché bisogna dire allora ci teniamo la pandemia o la crisi del liberalismo non so andare oltre a questo e penso anche di dover velocemente avviarmi alla fine Carla San Nicola dunque Carla mi ha accusato di non aver pronunciato la parola capitalismo allora io mi posso difendere bene perché nella registrazione che avrà fatto Gianni avrà sentito che io almeno per due volte ho nominato il capitalismo organizzato di Hilferding pubbino dopo la fine della seconda guerra mondiale prima che emergano Eugen e Roach e che portino diciamo così alla ribalta questo nuovo pensiero che si chiama proprio ordo liberale e che è l'impostazione del pensiero economico tedesco se voi vi domandate ma nell'Unione Europea qual è il pensiero abbiamo parlato di scuole pensiero abbiamo parlato di neoclassici neomarziani ricardiani keynesiani eccetera qual è il pensiero dominante nella normativa dell'Unione Europea è l'ordoliberismo tedesco liberalismo con ordine cosa proponeva Hilferding con il capitalismo organizzato è una parabola illiberale nel senso che Hilferding parla di un capitalismo organizzato ma dove il Prius quello che viene prima il principale è lo Stato è chiaramente un'ipotesi di economia collettivizzata siamo vicini alla rivoluzione d'ottobre quindi voglio dire anche storicamente questo capitalismo organizzato di Hilferding è un richiamo a quello che sta succedendo in Russia e però lei dice dunque ma dal 2008 si è visto che la globalizzazione pur di successo pensa all'utilità c'è qualcosa di più Carla nel senso che non pensa soltanto all'utilità ma pensa alla concentrazione del beneficio delle transazioni per cui se c'è qualcosa che noi possiamo rimproverare a questa globalizzazione dei mercati che non è la prima globalizzazione perché ovviamente ci sono state le globalizzazioni dell'età degli imperi ci sono state le globalizzazioni del fin de secle della della belle epoca eccetera pensate che l'integrazione finanziaria agli mai vissuto mai visto non è così purtroppo quello che invece ci fa vedere oggi la globalizzazione è una concentrazione della ricchezza nelle mani di chi ha e che impoverisce chi non ha ed è un percorso senza soste non è vero le soste ci sono state negli anni 90 durante le crisi nel 2008 durante la crisi ma quello che può veramente mettere in crisi la globalizzazione sono quei sei miliardi di persone di cui parlavo parlavo prima che hanno come interlocutore un miliardo di persone che vive in media nell'abbondanza e mi fermo e mi fermo qui dunque allora mi rimane ecco lei però diceva oggi la spaccatura drammatica tra dipendentici pubblici e privati l'ho ascoltata con grande interesse perché lei ha individuato un punto cruciale che non è un punto soltanto di distribuzione economico finanziario ma che è un punto che ha una rivelevanza sociologica gigantesca e che bisogna governare mi perdoni Carla se non vado oltre ma penso forse di essermi anche allungato troppo dunque allora credo di essere arrivato alla fine con Luigi Nuzzi anche a Luigi Nuzzi che cosa dico che lei pure mi ha detto in questa relazione abbiamo sentito un sacco di parole un sacco di concetti non abbiamo sentito parlare di economia circolare che cos'è l'economia circolare l'economia circolare è un'economia che ha dei principi fondamentali che si basa sulla condivisione e soprattutto che pensa ad un prodotto come servizio abbiamo parlato dell'economia civile di Zamagni abbiamo parlato dell'economia non transattiva di Gian Battista Vico ecco forse potrei dire concludendo che questa dell'economia circolare è sicuramente sia dal punto di vista dei flussi di materiali sia in particolare quelli biologici eccetera sì forse si può avvicinare ad una condizione ideale che è quella a cui ho fatto riferimento più volte quando ho parlato della della visione di Gian Battista Vico vi chiedo scusa perché probabilmente sono andato con il tempo al di là noi non sono un quarto e mezzo ci siamo avvicinati alle due ore sono quasi le dieci però vi dicevo un po' è colpa vostra perché il dibattito è stato talmente ricco che io avevo due strade o sottrarmi o in qualche modo impegnarmi e a questo punto vi ho forse costretto a stare troppo a lungo ad ascoltarmi ma vi ringrazio perché sono stato sono stato molto bene con voi grazie a lei professore grazie grazie veramente grazie grazie di cuore veramente allora grazie a voi e ci salutiamo buona fine di serata ci rivediamo con lei si ricorda la data adesso la dovete vedere io dico che chi è pessimista non dovrebbe uscire di casa la mattina ci vediamo l'11 maggio però se lei per caso dovesse avere qualche secondo di tempo per i prossimi incontri e dovesse aver piacere a condividerli con noi io le mando comunque il link per il collegamento poi se lei ha piacere è benvenuto voglio dire la ringrazio molto grazie a tutti grazie a lei grazie a lei e arrivederci io intanto mi permetto di ricordare a tutti che il prossimo appuntamento di questo ciclo di incontri è il 15 di febbraio e che invece domani per chi volesse c'è la catechesi e che venerdì invece c'è il prossimo incontro della Fratelli Tutti con padre Rosario che è il superiore nazionale dei missionari saveriani grazie a tutti arrivederci buonanotte salve buonasera buonanotte grazie a tutti